Santa Rita, Santa Dei, casi impossibili e disperati, con umiltà mi volto a te, consapevole della tua intercessione potente presso il Signore. Tu, che hai vissuto sulla terra con fede incrollabile e amore profondo per Dio, hai sperimentato nella tua vita i dolori e le prove che l'esistenza terrena può infliggere. Santa Rita, so che sei la mia guida celeste in questo momento di difficoltà, mi trovo di fronte a un ostacolo insormontabile, a una sfida che sembra al di là delle mie capacità, ma con te accanto, o santa delle cause impossibili, so di non essere solo. Mi affido a te con tutto il cuore, con la certezza che la tua intercessione mi porterà conforto e sostegno. Guarda, Santa Rita, dentro il mio cuore e la mia mente. Tu, che hai conosciuto la solitudine e l'angoscia, comprendi i tormenti che affliggono la mia anima. I miei pensieri sono confusi, le mie speranze vacillano, eppure so di poter contare sulla tua presenza amorevole. illumina il mio cammino, o Santa Venerata, e guidami attraverso le tenebre verso la luce della speranza. Ti prego, Santa Rita, risolvi il mio caso impossibile. Tu, che hai saputo sciogliere nodi inestricabili e portare pace nei cuori afflitti, intervieni per me davanti al trono di Dio, affinché la mia supplica sia ascoltata. Con la tua intercessione, confido nella risoluzione di ogni ostacolo e nell'ottenimento della grazia che tanto desidero. Fa che la mia fede si rafforzi, o Santa Rita, e che la mia fiducia nel Signore sia incrollabile. Aiutami a mantenere viva la speranza, anche nei momenti più bui e disperati. E quando arriverà il momento della vittoria, rendi grazie insieme a me, al nostro Dio misericordioso e compassionevole. Santa Rita, ti prego, non abbandonarmi mai. Resta al mio fianco, custodisci il mio cuore e la mia mente e proteggimi con la tua intercessione celeste. Con te, al mio fianco, so di poter affrontare qualsiasi prova, qualsiasi difficoltà. Grazie, Santa Rita, per il tuo amore eterno e per la tua presenza costante nella mia vita. Amen.